Da Marche Sud a Marche Nord, come sono i dialetti? Beh, allora, se parli San Benedetto, parli un po' Cucì Ascoli, capito? Un po' una roba che sta vicino, quasi alla Bruzzese, però diciamo un po' più, se senti un po' un po' più forte Cucì, va bene, la zona di Fermo, invece più zona mia, eccoci, poi Maggierata, invece viene un po' più candelenante, un po' più musicale, capito? Se fai verso dentro, tu l'indie, San Severino, la roba lì, lì, fatta questa cosa, ci vieni domadina. Sono tutti i punti interrogativi, davvero? Anche le frasi normali sembrano delle domande. È una curva, li mangiatevi in disgrassi perché? Perché? Poi c'è, in Ancona invece risentono un po' del portoghese, perché parla una cosa così, del brasiliano portoghese, della passata l'anconetano portoghese, la famosa bossa nova di Ancona. Esattamente, così, e invece Pesero è una cosa un po' più diversa, che come parla poi Valentino, si risente delle mili, lì si risente delle mili, si, si risente della Romagna. Della Romagna.